Cresce la tensione nel centro storico algherese. Furti, danneggiamenti e atti vandalici all'ordine del giorno. Numerose le lamentelle di cittadini, soprattutto residenti, che al mattino si trovano di fronte a sgradite sorprese. È infatti il cuore della notte il momento preferito per portare a termine le malefatte. Ad essere presi di mira sono sempre più spesso i cassonetti e le fioriere, ma l'attività che sempre più sta prendendo piede è il furto. Negli ultimi due giorni due denunce per furto alle autorità competenti. Problema sicurezza che sarà affrontato nell'incontro odierno tra rappresentanti dei commercianti e assessorato allo sviluppo economico.